Musica Tre spettatori ben ritrovati con l'informazione di Terediogene. Un centinaio di lavoratori di aziende in mobilità hanno protestato stamane bloccando il traffico sulla strada statale 106 a Crotone nei pressi di località Passo Vecchio. Il blocco è stato rimosso dagli stessi manifestanti dopo alcune ore e attualmente il transito è tornato regolare. La manifestazione di protesta indetta per richiamare l'attenzione sulla situazione che riguarda centinaia di ex dipendenti licenziati da aziende della zona ha creato disagio agli automobilisti e agli autotrasportatori che utilizzano l'arteria che attraversa la zona industriale della città. Sul posto è intervenuta la polstrada di Crotone assieme a squadre di tecnici dell'ANAS per la gestione della viabilità alternativa. Traffico bloccato sulla 106. A bloccarlo sono i lavoratori in mobilità. C'è una lunga fila, abbiamo dovuto lasciare la macchina all'uscita dalla consortile ma è stato complicato arrivare anche sulla 106. Ormai la fila arriva oltre le fabbriche, hanno bloccato dove c'è il passo vecchio in modo che il disagio sia distribuito un po' omogeneamente su tutto il traffico da e per il passo vecchio. Si muovono infatti le auto, si muovono lentamente. Non sappiamo se è un'azione dimostrativa oppure durerà più a lungo. Cerchiamo di raggiungere a piedi il passo vecchio. Allora ci siamo fatti una lunga galoppata a piedi il traffico che arriva oltre Crotone. Grazie a voi. No, no, grazie a voi. Allora ci avete chiamato. Che sta succedendo? Cosa avete deciso di fare? È stata una decisione estemporanea. Stamattina non è stato niente riprogrammato perché alla luce dell'assenza ancora delle novità abbiamo fatto questo atto, come dice mio compagno Ugo, non di violenza ma un atto di forza. Quindi niente di che per manifestare ancora un'altra volta che il nostro disagio è forte e per far arrivare questo messaggio ancora più forte, ancora più lontano abbiamo fatto questa cosa nel rispetto della... Avete bloccato per un periodo... Per un po'. Stiamo per sbloccare, facciamo questa dichiarazione e sblocchiamo per dimostrare ancora una volta che non vogliamo creare un disagio oltremodo forte. Voi credete che la gente capisca il vostro problema? Noi siamo sicuri che la gente capisca il nostro problema. State morendo di fame? Tutti quanti capiscono il nostro problema. Dico di più, anche le forze dell'ordine, nel rispetto del loro ruolo, che è giusto, che sia così. Infatti noi stiamo per smontare tutto quanto, però anche loro sono stati comprensivi. Tutto qua. Allora stanno per aprire la... Per togliere il... Allora sentiamo la signora. Signora ha portato la bambina. Sì, sì, come sempre. Ora siamo stufi. Vogliamo certezze. Ora basta, non ce n'ho più parole. Siamo stanchi, basta. Eccola lì la bambina. Sì. Se la porta sempre dietro. Sì, sempre dietro con me. A dimostrare che il vostro disagio è talmente grande. Quando non si può comprare il latte a una bambina, quanti mesi ha la bambina? Tre mesi. Di tre mesi abbiamo raggiunto il fondo. Sì, ormai basta, basta. Basta veramente. Non ce n'ho più parole. Grazie. 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 con la partita di calcio, con il tifo, non è avvenuto né dopo l'incontro di calcio, ma è avvenuto a distanza. Ciò naturalmente dà il sintomo di un'azione premeditata, di un'azione che è fine a se stessa, cioè doveva essere violenta. E allora per me si tratta di un grumo criminale, non si tratta di tifoseria, anche perché ho avuto modo di apprezzare il vero tifoso crotonese, ero alla partita al derby e ho visto che si tratta di due mondi completamente separati. Il vero tifoso crotonese è una persona corretta, che va, si diverte, usa anche il linguaggio colorito che si usa allo stadio, ma però uscita dalla... Esatto, ho avuto modo proprio di vedere questo, cioè una tifoseria che inneggiava per la sua squadra, che non rinunciava allo sfottò, ma soltanto verbale, il che è una nota di colore, ma che non ha nulla a che fare con questi episodi depercabili, con questi episodi che, ripeto, si inquadrano in una mera violenza criminale. Grazie a un ristoratore che è intervenuto per fortuna, forse si è evitato il peggio, lei stessa l'ha detto. Sì, noi dobbiamo ringraziare queste persone e mi fa piacere che sia capitato questo, perché io quando mi insediai a Crotone e dissi questo, abbiamo bisogno della collaborazione della gente, noi da soli non andiamo da nessuna parte, e beh sono veramente contento che la collaborazione di un cittadino abbia evitato il peggio per questi poveri ragazzi che erano venuti a Crotone per vedere la partita e per mangiare una pizza. L'indagine, la DICOS, è stata condotta dalla DICOS, dall'ufficio della DICOS, che ha subito individuato i responsabili, utilizzando anche tecniche come le celle dei cellulari che hanno consentito di verificare gli spostamenti di queste persone, di queste pseudotifosi crotonesi e cosentini, perché dobbiamo dirlo, sono insieme, messi insieme questo gruppo teppistico, questo gruppo di violenti, si sono messi insieme per andare ad aggredire quattro ragazzi che hanno fatto l'unica debolezza che hanno avuto quel giorno di mangiarsi una pizza a Crotone, lasciare anche dei soldi qui a Crotone e si sono isolati rispetto a quelli che sono andati via prima. Debo sottolineare la tempestività dell'intervento sia delle volanti che della DICOS e debbo sottolineare anche la sinergia che c'è stata con la Procura della Repubblica, perché il Procuratore della Repubblica in persona ha seguito, sin dal primo istante, essendo stato informato tempestivamente, dell'evoluzione delle indagini, ha coordinato le stesse e ciò è importante, perché? Perché la risposta è stata efficace in quanto è stata immediata e quindi debbo sottolineare l'impegno degli uomini della DICOS, della Polizia di Stato, ma altrettanto debbo sottolineare la sensibilità della Procura della Repubblica che, ripeto, sin dalle prime battute ha seguito costantemente le indagini, indirizzandole nella maniera positiva. Stavano andando tranquillamente, dice testualmente, figlio di puttana, di merda, bastardo regino, ti ammazzo regino di merda. Queste sono, vi ho voluto leggere questi due passi dell'ordinanza di misura cautelare. Andiamo al comune di Crutone dove ci sono fibrillazioni nella maggioranza dopo l'annuncio del sindaco Vallone di aver raggiunto l'accordo per la transazione con l'Eni. Sentiamo. Male umori nella maggioranza al comune di Crutone. A determinare le nuove fibrillazioni tra i rappresentanti del centro-sinistra è stata la notizia data ieri dal sindaco della città Peppino Vallone ai consiglieri di maggioranza riuniti per il bilancio. Vallone ha detto che nel bilancio si poteva approvare anche la transazione con l'Eni, una transazione che dovrebbe portare benefici economici al comune di Crutone. È stato chiesto da parte di alcuni consiglieri di come era composta questa transazione ed è stato riferito che la transazione ormai ultimata e prevede la donazione da parte dell'Eni di tutta quella struttura che si affaccia su via Poggio Reale e parte Santa Croce più una consistente parte fette economica da destinare alla cultura e alle attività produttive. A questo punto è intervenuto il presidente della commissione bilancio Sergio Giritale che ha chiesto se era stato quantificato il valore della struttura che si affaccia su via Poggio Reale perché nel 1990 era stato fatto un bando e la famiglia Iiritale aveva partecipato e aveva vinto la gara per l'acquisizione. Il bando l'aveva fatto l'Eni. Poi la famiglia Iiritale decise di non acquistare più nonostante avesse vinto quella gara perché il valore dell'immobile non era quello che si pensava nel senso che da una verifica all'interno delle palazzine si era scoperto che le cose non andavano bene. Quindi alla luce anche del fatto che c'è stata una frana ve la ricorderete che per alcuni anni ha bloccato in parte via Poggio Reale la via che dalla piazza Pitagora porta al mare ebbene quella frana che è partita dalla parte soprana ha inciso sulle palazzine quanto valgono è stata fatta una perizia per stabilire il valore e gli incontri con l'Eni quando sono avvenuti e dove sono avvenuti sono queste le posizioni cioè perché tre anni fa era stata fatta una commissione comunale di cui faceva parte anche lo stesso Iiritale e altri Marseglia appunto il consigliere che si occupa alla presidenza esprime la presidenza della commissione ambiente era stata fatta questa commissione che doveva trattare con l'Eni questa commissione non ha partecipato a nessun incontro con l'Eni quindi questi incontri con l'Eni quando sono stati fatti e dove sono stati fatti i consiglieri comunali non sono stati informati di questa transazione quindi ci sono malumori abbastanza seri all'interno della maggioranza nonostante l'aria gelida che sta imperversando anche a Crutone i bambini della scuola materna ed elementare di Contrada Bucchi sono senza termosifoni da noi si dice spacca e mangia per dire vive alla giornata vive alla giornata con le cose che puoi fare però quando si tratta di bambini quando si tratta della scuola del diritto allo studio vivere alla giornata è un reato è un reato di che cosa stiamo parlando? questi due sono genitori domani cercheremo di sentire anche gli altri che hanno i figli nella scuola elementare e materna che si fa a Pizzute a Pizzute, terzo circolo qual è il problema? anche quest'anno è arrivato il freddo il gelo oserei dire è arrivato il gelo e i bambini sono senza riscaldamento e allora stamattina non ce l'avete fatto più allora noi stamattina siamo andati con le mamme alle scuole per vedere realmente la situazione perché ieri ci sono stati colloqui e abbiamo avvertito un freddo noi genitori stessi c'era un freddo che non si poteva stare un bambino di fino a 10 anni io ho una bambina di 3 anni nella scuola materna e uno di 8 nella scuola elementare e mio figlio stamattina non voleva andare a scuola non capivo la motivazione non voglio andarci non voglio andarci perché aveva freddo io stamattina ho costretto mio figlio ad andare a scuola con un pigiama sotto i vestiti cosa proprio da indignati e non è maltrattamento di bambini certo questo è maltrattamento di minori questo è maltrattamento di minori sono andata nella scuola materna e le insegnanti per fare i bambini giustamente avere un po' di caldo gli hanno cominciato a fare il trenino il giro tondo per farli muovere per farli muovere e riscaldarli e noi da stamattina siamo andati poi ci siamo riuniti siamo andati a questure prefetture insomma abbiamo fatto un giro di chi ci hanno mandato di quella è la colpa di quella è la colpa hanno fatto uno scarico a barile c'è stata una vergogna stamattina punto sta che siamo arrivati al comune allora alla fine di questo giro alla fine di questo giro devi andare lì devi andare in prefettura devi andare siete arrivati al comune al comune perché è il responsabile del mancato all'accio dell'escalpamento la scuola è comunale e siamo andati al comune abbiamo chiesto il perché di questa situazione loro giustamente dicono no che noi abbiamo fatto no le ditte le abbiamo chiamate solo che è stata responsabilità insomma delle ditte che sono andate in altre scuole non in quelle di campagna perché una scuola in campagna è più fredda rispetto ma quando l'hanno chiamata è che questo noi dobbiamo cercare di capire che ancora non siamo la ditta queste cose si fanno a giugno per settembre per non avere problemi all'inizio della scuola tutte le questioni si fanno a giugno per settembre il comune ha messo in programma queste cose no perché altrimenti la ditta si sarebbe risolta subito la ditta avrebbe avuto la possibilità di servire tutti invece noi ci troviamo oggi al 28 novembre con i bambini che muoiono di freddo e i riscaldamenti non sono accessi adesso stiamo chiamando dalle scuole ci dicono che ci sono anche bambini disabili ci sono anche bambini tra le altre cose hanno già i loro problemi hanno già i loro problemi mettiamoci pure questo mettiamoci pure questo mettiamoci pure questo quindi stamattina siete venuti al comune avete parlato con il dirigente del comune perché noi abbiamo detto che saremmo partite con denunce perché i bambini cosa è successo cosa è successo che hanno cominciato mobilizzato telefono e telefoni e sono arrivati al bombolone a riempire il bombolone allora è vero la ditta è venuta stamattina sì ma non c'è il comune è una vergogna è una vergogna arrivare a queste condizioni è una vergogna è una vergogna stiamo parlando dei bambini della scuola avete capito non stiamo parlando di adulti è una vergogna siamo arrivati a Crotone con questa possibilità veramente con dignità e tante altre cose che è una vergogna arrivare a questo punto padre di famiglia e signore che vanno al comune a chiedere del centro di riscaldamento è una vergogna allora quindi al comune è arrivato è arrivato ma noi non abbiamo il tecnico ancora mi hanno chiamato è arrivato l'hanno acceso no perché e che succede non hanno collaudato i bambini sono nella scuola sono entrati e non c'è il collaudo del bombolone a che mi serve a me che mi hanno riempito il bombolone se poi non lo possiamo accendere e che faremo adesso per il collaudo posso? certo vediamo se entro là dentro e comincio a spegnere tutti i riscaldamenti che succede la fine del mondo vediamo la fine del mondo perché i signori sono al caldo e i bambini di tre anni sono al freddo ma non si vergogna ma dove è la coscienza ce l'hanno la coscienza ce l'hanno un cittadino afghano Buzza Azzar di 27 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Crotone per tentato omicidio ai danni di un connazionale Sardar Wali di 38 anni tra i due c'è stato un litigio avvenuto nel centro richiedenti asilo al culmine del quale Azzar ha picchiato Wali con un bastone quest'ultimo è ricoverato nell'ospedale di Crotone in prognosi riservata mentre Azzar è piantonato per lievi ferite la rite è scaturita per futili motivi emergenza rifiuti è un cane che si morde la coda botta e risposta dal comune di Crotone e la regione il dirigente della regione Calabria del dipartimento politico e dell'ambiente ingegnere Bruno Gualtieri stamattina ha trasmesso questo fax alla CREA alla società che raccoglie i rifiuti che dice oggetto graduatorio di conferimento presso l'impianto tecnologico di Crotone disposizione l'impianto tecnologico di Crotone è quello di Ponticelli si fa riferimento alla graduatoria dei conferimenti presso l'impianto tecnologico di Crotone stabilita sulla base di percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai comuni conferenti per rappresentare che a seguito dei disagi che si sono riscontrati nei giorni scorsi nei conferimenti presso la discarica di Pianopoli l'intero sistema regionale di raccolta e smaltimento RSU ha subito un forte rallentamento con conseguenti accumuli di rifiuti negli impianti regionali in particolare l'impianto di Crotone nell'ultimo periodo è stato impossibilitato a ricevere la totalità dei rifiuti prodotti dai comuni che si trovano negli ultimi posti della graduatoria ci ho premesso allora che cosa dice la regione calabrica qui poi dimostrano che non seguono le questioni perché se è vero quello che a me ha detto il sindaco a questo microfono sono non conoscono la situazione sono responsabili loro del fatto che a Crotone non si fa la raccolta differenziata nel Crotone non si fa la raccolta differenziata e siamo agli ultimi posti il sindaco prima di far parlare Marseggio il sindaco nei giorni scorsi a questi microfono ha detto noi non possiamo fare la raccolta differenziata e raggiungere le percentuali che chiede la regione calabria perché il ciclo dell'umido che è la parte più consistente la parte più grossa dei rifiuti quella che fa aumentare la percentuale è fermo a Crotone non si fa non si fa non per responsabilità dei comuni non si fa per responsabilità della regione calabria che all'impianto dei ponticelli non ha fatto partire questa cosa siccome loro hanno fatto delle regole questo è tutto il senso del ragionamento loro hanno fatto delle regole scaricano prima i comuni virtuosi quelli che fanno la raccolta differenziata e Crotone non lo scaricarà mai perché non potendo fare il ciclo dell'umido io vorrei tornare indietro su quello che lei ha detto perché nell'intervista di ieri noi ci siamo recati direttamente sulla discarica di Ponticelli sull'impianto di selezione e abbiamo verificato con i nostri occhi quella che è la situazione attuale la situazione attuale è la seguente che vi sono comuni anche della provincia di Crotone ma mi riferisco a comuni di 4.000 5.000 abitanti che con un solo automezzo mettono a regime quello che sistema dei rifiuti nei loro comuni Crotone questo non solo può permettere in virtù di questo noi proprio lì all'impianto i responsabili dell'impianto ieri avevamo chiesto che i camion della Crea quando arrivano all'impianto di Ponticelli devono avere precedenza assoluta perché Crotone è in emergenza Crotone è una città che già ha i suoi sacrifici perché ospita un impianto di selezione ospita una discarica e ogni qualvolta la Calabria va in emergenza Crotone diventa poi la panacea di tutti i mali no? perché voi siete deve ricevere i rifiuti di tutte le altre realtà Ponticelli sta attuando questo sistema di trasferenza che acquisisce presso la discarica di Pianopoli Pianopoli è ferma Pianopoli è ferma è diventato il solito effetto boomerang Crotone ne paga le sue conseguenze noi a questo non ci stiamo ma paga le conseguenze lo dice l'ingegnere Gualtieri che dice se lei mi fa finire no no Gualtieri dice pagate le conseguenze perché voi non siete virtuosi no non è questo il motivo ma questo dice il problema è che purtroppo vi sono soggetti esterni alla nostra città che pensano di continuare a comandare il nostro territorio siccome noi adesso su questo problema dei rifiuti abbiamo messo in atto una buona iniziativa una grande iniziativa quello di tenere il livello di guardia alto noi non ci fermeremo qui perché ieri abbiamo intimato abbiamo chiesto non minacciando naturalmente ma riguarderei bene ai responsabili dell'impianto di dare precedenza ai nostri automezzi di se la regione avesse la celerità a rispondere per come risposto su questa lettera incalzando quello che noi abbiamo detto perché questo praticamente hanno usato dei metodi per quanto mi riguarda poco ortodosso ai nostri confronti in quanto voglio dire Crotone è in emergenza ambientale da diversi mesi se non si garantisce il ciclo dei rifiuti agli automezzi della Crea di fare almeno due o tre viaggi al giorno almeno mettere a regime la città dopodiché con la normalità il problema non si pone però se noi andiamo così a rilento la città sarà perennemente in emergenza per quanto riguarda i rifiuti e poi c'è da dire che le discariche in Calabria lo sappiamo tutti le discariche in Calabria sono solo a sud della Calabria a nord della Calabria dove risiede la provincia la provincia di Cosenza che occupa un milione di abitanti non ha nessuna discarica a servizio e noi praticamente subiamo i rifiuti di altre città questo è il problema ogni città deve avere un proprio impianto a servizio per quello che è l'autosufficienza che ognuno si dotasse di questo e il sistema dei rifiuti così va a regime in Calabria siccome Cosenza ha i suoi santi protettori perché occupa anche metà del Consiglio regionale e in questo momento ha notevoli esponenti che tutelano il loro territorio addano di altri territori ma non di altri del territorio solo ed esclusivamente di Crotone perché quello che subisce Crotone in materia di rifiuti non lo subisce nessuno in Calabria noi a questo non ci stiamo non ci stiamo abbiamo un assessore del territorio voglio dire che con i voti del Crotone adesso occupa una postazione nella regione Calabria dell'assessore all'ambiente non dico che debba avere delle preferenze per il territorio di Crotone ma che almeno lo tuteli e che lo difenda col coltello fra i denti così come facciamo noi amministratori che per quello che ci compete lei sa il sistema dei rifiuti e lo ribadisco ai cittadini che magari spesso puntano di doverso il comune il sistema dei rifiuti lo gestisce direttamente la regione Calabria noi ne abbiamo voce in capitolo il commissariamento ha già fatto i danni che è fatto adesso continua sulla scena del commissariamento abbancandoci di rifiuti e tenendo una città veramente all'inverosibile la città è sporca è invivibile e per fortuna che sia in inverno altrimenti in estate oltre a questo ci sarebbero state anche preoccupazioni per la salute dei cittadini nella prossima settimana ci riecheremo nuovamente all'ambiente dei poticelli per manifestare quelle che sono le nostre esigenze per il rispetto della società Acrea che è una società che dal che si dica è una società che il proprio servizio lo compie diligentemente grazie ai loro referenti grazie al loro caposervizio e grazie ai loro lavoratori che stanno 24 ore dietro al nuovo che hanno acquisito al nuovo che hanno acquisito allora cioè il problema è che preparatevi a fare l'albero di Natale con solo la spazzatura perché è questa la situazione faremo l'albero di Natale con la spazzatura perché saremo sommersi alla spazzatura se è vero quello che dice il sindaco che l'ha detto a questi microfoni noi avremo raddoppiato il costo della spazzatura perché paga di meno chi fa la raccolta differenziata in quanto i rifiuti che da Crotone arrivano a Ponticelli vengono trasportati tal quale così come sono nella discarica di Pianopoli e quelli hanno un costo a peso ed è un peso d'oro più ne portiamo rifiuti tal quale più pageremo come bollette a partire dal prossimo anno e questo è il punto allora il sindaco l'ha detto e lo ribadisco lo ribadisco io il sindaco che ha detto che la raccolta differenziata non si fa a Crotone perché l'umido non c'è che è quello più consistente e quindi noi abbiamo sempre percentuale molto basso di raccolta di rifiuti quindi ci costa in termini di sporcizia e in termini economici questo fatto il presidente della provincia di Crotone Stanuzzurlo ha ricevuto stamane il generale Aloisio Marigio nuovo comandante della legione Carabinieri Calabria l'alto ufficiale era accompagnato dal comandante provinciale dell'arma colonnello Francesco Iacono il comune di Isola Capo Rizzuto con delibera di giunta numero 125 ha trasmesso il progetto definitivo affidato all'ingegner Francesco Tellarico per i lavori di disinquinamento raccolta refui in zona Capo Rizzuto lato ovest il suddetto intervento è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 il costo complessivo dei lavori è di 500 mila euro ed è finanziato dai fondi regionali royalties dell'annualità 2007 l'emergenza infrastrutturale non può più attendere bisogna intervenire in fretta stamane se ne è discusso presso la Camera del Lavoro Cigelle di Crotone le ristrettenze ovvio si taglia ed è giusto che si tagli non è che noi non siamo per la spending grego parliamo di trasporti locali che non funzionano perché la città di Crotone è isolata la sua provincia ancora di più certo noi oggi abbiamo voluto riprendere le denunce che avevamo fatto qualche mese fa con il convegno davanti alla stazione ferroviaria come luogo simbolo dell'abbandono e della retratezza infrastrutturale della nostra città e della nostra provincia perché vogliamo riprendere questo tema lo vogliamo denunciare con forza perché riteniamo che avere una ferrovia che ha le caratteristiche che noi tutti conosciamo avere una strada che ha le caratteristiche che noi tutti conosciamo avere un aeroporto che è nelle situazioni in cui noi tutti che noi tutti conosciamo in più un porto che pare abbia qualche spiraglio ma ad oggi non si vede non si sente nessuna risposta non possiamo sottacere non possiamo portare l'attenzione dell'open union pubblico come sindacato e chiedere alle istituzioni di fare in fretta perché questo è il nostro motto stamattina ci sono i problemi la Calabria scusa la Calabria è già di per sé una regione messa male poi all'interno della Calabria ci sono due realtà quella ionica e quella tirrenica quella ionica quella tirrenica anche se con qualche passo di ritardo sta dietro all'Europa e dietro all'Italia quella ionica in particolare l'area del crotonese invece è fuori dal mondo è più una realtà africana quando parliamo di trasporti parlarle nella città di Crotone nella nostra provincia non è come parlarne in altre città calabresi è verissimo quello che lei ha appena detto nel senso che l'arretratezza e l'isolamento che ha la città di Crotone non ce l'ha nessuno quindi sia la politica nazionale sia la politica regionale insieme alle rappresentanti istituzioni locali devono porsi il problema e devono dare delle risposte immediate perché veramente non c'è più tempo da perdere diventa veramente difficile ai cittadini della nostra città e della nostra città dare un diritto scontato di quello della mobilità se uno non ha la macchina diventa complicato e quindi su questo noi oggi abbiamo voluto fare questa conferenza stampa perché riteniamo di riprendere questo tema soprattutto siccome la CGL si sta avviando al proprio congresso riteniamo che il problema dei trasporti sarà uno dei temi centrale che dibatteremo all'interno del nostro nome insieme alla grande questione ovvia del lavoro ieri sera intorno alle 20 e 30 una grande palla di fuoco ha attraversato i cieli del sud per più di 10 secondi avvistata da migliaia di persone in modo particolare nelle zone ioniche tante le segnalazioni dalla Puglia dalla Basilicata dalla Campania dalla Calabria e dalla Sicilia da cui la meteora è stata avvistata ovunque con le stesse fattezze di colore verde intenso e che ha illuminato il cielo quasi a giorno si tratta molto probabilmente di un bolide definito scientificamente meteora un frammento di roccia delle dimensioni di un piccolo sasso che entra nella nostra atmosfera a velocità molto elevata che in talune circostanze può arrivare a superare i 260 km orari la visione di questi corpi è caratterizzata da una palla di fuoco che cade velocemente dal cielo lasciando dietro di sé una scia di luce della durata di qualche secondo questi bolidi possono assumere varie colorazioni dal bianco al rosso al verde all'arancione sono fenomeni che non possono essere previsti e proprio essendo imprevedibili hanno spesso osservatori del tutto occasionali e comunque l'osservazione di questi bolidi andrebbe sempre riferita ai centri di raccolto o ai gruppi astrofili stamane nella sala consigliare della comune di Crutone ringraziamento della città al giudoca Walter Facente per i grandi risultati sportivi conseguiti quando mi ha rappresentato nella scorsa al gruppo di Milano Scicci che Mosco con la città di Vado che sia lo stesso per raggiungere altri ragazzi sempre più importanti per rafforzare un nome di Vado per facendo e insieme con altre facendo amici che hanno fatto Walter Facente la città di Crutone ti esprime la gratitudine la gratitudine perché sei un campione Walter è emozionato Walter si emoziona facilmente sa solo fare il campione il campione non lo sai fare quello ti riesce bene come tutti i campioni lui cosa preferisce esprimersi sul tatami e non magari a questa dote Cettuardi è un risultato molto importante per lui per il gruppo dei Carabinieri per la judofacente Papanice è un orgoglio per la città di Crutone per il nostro paese speriamo che veramente di vederlo magari più prestigiosi questa targa che poi è una cosa molto semplice che l'amministrazione comunale che la città di Crutone dà a lui a Walter è una targa per meriti molto spesso noi facciamo le croniche per parlare male della gente che si comporta male invece questa volta Walter si è comportato benissimo ha fatto il campione noi ringraziamo la città di Crutone per questo semplice riconoscimento perché sappiamo che ci è stato sempre vicino il sindaco lo ringrazio pure si si come lo ringrazio tutti quanti cosa è che è bene comunque che mi sta molto vicino ringrazio tutti quanti grazie per questo premio la città di Crutone allora la timidezza l'hai sconfitta la stai sconfitta con un sorriso il tuo sorriso ripaga tutti quelli che ci stanno vivendo si si ripaga tutti gli sforzi che ho fatto i sacrifici si si che ha fatto l'arma tutto quanto comunque ringrazio mio padre e mia famiglia che mi è stato vicino tuo padre lo conosciamo la tua vita la conosciamo oggi l'hai visto oggi non parla di spazzatura sembra arrabbiata si si infatti parla solo di sport non parliamo di rifiuti facendo non parliamo parliamo dei tuoi figli parliamo in modo particolare di un tuo figlio del quale tu ed io che sono di paperenice come te dobbiamo andare orgogliosi si Walter è diciamo il reddice di una competizione a livello mondiale un'ottima prestazione a Dubai a Dubai si a Abu Dhabi abbiamo detto Dubai a Abu Dhabi valida per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi già lui era in lizza diciamo era una ranking lista internazionale collocata un ottimo posto per la partecipazione alle Olimpiadi questo diciamo è arrivato secondo è arrivato secondo quanto è arrivato no è arrivato ha preso medaglia d'oro a medaglia d'oro ma l'assessore mi ha detto medaglia d'argento no medaglia d'oro medaglia d'oro medaglia d'oro a questo a questa iniziativa di Abu Dhabi niente questo è un risultato ottimo che diciamo ci va a ben sperare per il futuro anche perché sono in corso diciamo le fasi di qualificazione per le Olimpiadi tu sai che nel judo non so se è difficile diciamo il nostro carabiniero andrà alle Olimpiadi alla prossima Olimpiadi no questo l'hai detto tu io dico ci stiamo lavorando ci sta lavorando ci sta lavorando lui lo sportivo dei carabinieri insieme a lui ci stanno lavorando andiamo a Cesare quello che dice Cesare diciamo non è tu come padre io sono sei orgoglioso ma non di meno dell'altro perché anche l'altro anche se voi non seguite diciamo la cronica sportiva no sono io che faglia un palo come si suol dire sono un giocatore di 3-7 faglia un palo non lo sport mi piace ma non lo seguo non più di un mese fa l'altro fratello ha conquistato il titolo della Coppa Italia riservato a tutte le società civili escluso le forze militari quindi lui è campione in carica vincitore della Coppa Italia medaglia d'oro in famiglia insomma siamo persone attrezzate attrezzate non abbiamo soldi ma abbiamo medagli è una bella cosa stiamo ridendo perché è una bella iniziativa per la prima volta con lui non parliamo di spazzatura ma parliamo di sport ma l'amministrazione fa queste cose belle riconosce ai cittadini da questo riconoscimento ai cittadini cittadini sicuramente al mondo sportivo perché Walter rappresenta tutto il mondo sportivo indipendentemente che lui fa giudo però quando arrivano questi successi penso che tutto il mondo sportivo dal calcio pallavolo pallacanestro chiunque è felicissimo di questi successi e di Papanici ci fa piacere perché Papanici è una frazione importante di questo territorio sicuramente non è che Walter è il primo campione che arriva da Papanici ce ne sono stati altri noi dobbiamo ricordare negli anni passati che Papanici ha dato lustri di campione soprattutto anche nel judo proprio anzi forse Papanici ma io perché sto dicendo perché anche io sono di Papanici sono orgoglioso tolgo il fatto del forse ma Papanici sullo judo ha portato sempre grossissimi risultati questo è figlio su tutto lo sport in tutti gli sport sicuramente ma il judo anche nel giornalismo ma il judo diciamo che è una cosa che Papanici lo fa e lo fa seriamente con degli istruttori preparatissimi che vengono anche da là quindi sicuramente Crotone ne è orgogliosa di questa cosa ci mancherebbe altro io quello che ho detto già anche in conferenza stampa che il nostro augurio è che lui ha veramente un potenziale perché uno che partecipa su dieci gare ne vince nove una fa l'argento vince Dubai dove è il biglietto di visita per gli olimpiadi quindi da questa amministrazione dalla città tutta un abbraccio perché lui possa veramente domani partecipare a queste olimpiadi perché per noi sarebbe veramente un momento di orgoglio e di lustro per tutta la città in particolare soprattutto per Papanici sono state numerose le manifestazioni organizzate nella provincia di Crotone con il coinvolgimento del corpo forestale delle scuole in occasione della festa dell'albero si sono improvvisati i piccoli giardinieri gli studenti delle scuole primarie dei comuni di Scandale Santa Severina e Rocca Bernarda che la settimana scorsa assieme ai loro insegnanti e sotto gli occhi vigili degli agenti della stazione forestale di Crotone e Santa Severina proprio in occasione della festa dell'albero hanno messo a dimora nei giardini delle rispettive scuole alcuni alberelli ed ora la parola a Bruno Tassone vi saluto vedendo e sentendo chi ricafanno e dicono i politici nostri una domanda e sono sicuro che ne facciamo tutti ma perché dentro di campagna elettorale fanno tante promesse e poi quando si assettano alla poltione i comandi non ne mantengono nemmeno una chi ricafanno parte della maggioranza si scarregano con chi rioll'opposizione casemente ne traverso e non ne fanno faticare chi rioll'opposizione dicono che non possono nemmeno fare chi rica legge dice perché chi rioll'ha maggioranza rispetta le regole insomma ha colpa e se impilate intanto passano i mesi all'anno e di promesse ne mantengono solo una sola solo una chi era che i paesi li fanno cangiare eh mi capito si i fanno diventare pei i chiri che erano prima chiri che cangiano su solo loro gli troviamo una tavota a fare promesse a stringere le mani e a salutare pure a chi non hanno mai conosciuto e non l'hanno mai incontrato e all'inchiera una tavota i paesi e i mori di tutti i paesi con manifesto come faccio loro e qui faccio loro che guardano e rirono ancora non volesse sapere che le catene ne rire ma la maggioranza nemmeno se la domanda si vanno facendo perché vanno una tavota a rivotare senza pensare che hanno già fatto una bella cosa vanno piatto per fisse può dire una cosa è che con la stessa faccia meglio ancora con la faccia tosta che la tenono rirono rirono e stanno piando una tavota per fisse ma perché sono tutti stessi ottenono un tuo sangue sto modo di fare nessuno dà così perché l'hanno sempre fare o si imparano dopo che hanno diventano più ranni e guardano a chiare che c'erano primi loro ma certe domande però io siccome non è mai riuscito a me fare a me dare risposta a queste domande ed è sempre chiuso un discorso dicendo e pensando a chiare che dice una chiesa che dice una chiesa che ognuno tenero destino e che addio che non ci ha presente passato e futuro ed ognuno di noi tutti e l'altro giorno proprio approfittando l'occasione che mi hanno presentato non prevedo tutte queste domande ce le ha fatte a me a così almeno mi dobbiamo una risposta a uno che è stato in questa chiesa se è davvero cautelano per destino all'inizio mi pareva brutto ma quando ci ha sentito dire che ci ha fatto la campagna elettorale a non politicanti la zona e che ci ha promesso che ci faceva di arrivare i soldi per aggiustare la chiesa e che dopo che ha aiuto a fare un posto di comando che è diventato un personaggio che era la politica si è nascoltato di tutta la promessa degli soldi cacciava a domandare perciò quando mi ha detto questo quando mi ha detto questo e ha fatto coraggio e ci ha detto come è venuto e ci ha detto tutte le domande ma sto prevate come è venuto a fare le domande come fa un giornalista e guardavo e mi ha detto ma vuol dire che mi ha domandato perché ci faccio queste domande o perché un giornalista ce le ha da fare proprio a dentro ma lui invece ha continuato dicendo un giornalista che voleva fare un articolo su Bupararese grazie a una raccomandazione di San Tonese ha avuto permesso quando è arrivato all'aspettare c'era San Pedro che ci ha da fare pure guida San Pedro con un senso rispetto visto che c'era pura raccomandazione l'ha portato dentro il meglio posto di Pararese ci ha fatto vedere un bar a piscina o campo sportivo dove si toccano i sted che rimane proprio accomodate vicine insomma tutti i meglio posti dove l'anima è buona si godono per l'eternità dopo l'ha portato dentro un posto che l'uja accicava accicava per le lampadine che c'erano figurate mi ha continuato il prevedo che un raccomandato il raccomandato di San Tonese l'ha tenuto e ci ha detto sono sicuro che per tutta questa luce che arriva e che facendo arrivare da questa stanza a voi vi vennero certe bollette dove i zeri o si contano e San Petro direi no c'era a noi bollette o non arrivano e se mi fa finire un discorso lo capisci senza che lo spiego a questo punto San Petro l'ha portato dentro un posto dove c'erano miliardi di oggi un giornalista che era parecchio curioso ha voluto sapere perché San Petro ci ha detto tutte stelle oggi misurano la vita di ogni uomo tutti che siete sulla terra tenete un'ora oggi per conto posto e mi sono una vita e quando arrivano a un certo punto che scadano il tempo che la persona mora un giornalista guardandole quasi uno ad uno state accorto che ogni tanto una parte di oggi accelerava e accelerava un giro di lancetti e perciò ci ha domandato perché San Petro con pacienza ci spiega che l'augmento dei giri dipendeva di menzogne che uno puntava e che per questo i rioggi di politicante venivano usati come parco eolico giusto giusto per fare corrente elettrica vi saluto vediamo l'arbitro e gli assistenti designati per dirigere la sedicesima giornata del campionato nazionale di Serie B in programma sabato prossimo alle 15 ad arbitrare Padova Crotone ci sarà Cervellera di Taranto coadiuato da Bagnoli Belluti e Brasi ed ora vediamo alcuni appuntamenti previsti per domani venerdì 29 novembre alle 16 presso il Museo del Mare in via per Capocolonna a Crotone secondo congresso di Sinistra Ecologia e Libertà Federazione della Provincia di Crotone convegno organizzato dalla sezione di Crotone dell'Aiga alle 16 presso il Palazzo di Giustizia di Crotone su licenziamento illegittimo riforma Fornero venerdì sempre venerdì 29 alle 21.30 sabato 30 novembre alle 20.30 per la rassegna Teatro per Adulti andrà in scena al Teatro della Maruca di Crotone Delirium liberamente tratto da Delirio A2 di Eugenio Ionesco visita a pellegrinaggio della statua della Madonna di Fatima nella chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine di Capocolonna in Contrada da Salica con arrivo alle 14.30 e le celebrazioni prenderanno il via alle 16.30 ed ora vediamo il tempo previsto per domani su Crotone e provincia si prospetta molto nuvoloso visibilità ottima vento di 17 nodi 15 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo 8 gradi la minima ed ora il bollettino aeronautico del Marrione o tempo vento variabile forza 3 in rotazione da sud-est isolati temporali in intensificazione visibilità discreta in diminuzione mare poco mosso tendenza vento da sud-est forza 4 temporali bene la nostra informazione è terminata io vi ringrazio per essere stati con noi e come di consueto vi rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni arrivederci a